onore e fiducia onore e fiducia onore e fiducia onore e fiducia qualcuno ha disonorato l'anakama e il suo credo beh, no e la prima fase della nostra vendetta si realizzerà tra poco tempo allo strike-a-land sarà bello affrontare la tua vecchia squadra non è vero, Tiger? sì, i giocatori della nakama sono fortissimi ma prima dobbiamo battere il Colossus tu sai molte cose della nakama, no? sì, non vedo l'ora di riabbracciare Miko Chen è uno dei miei migliori amici aha allora tu puoi rivelarci qualche segreto della nakama i super strike-a-s vinceranno perché sono i migliori sul campo aha, ci puoi scommettere, amico continua pure a spazzolarti i capelli è ora di giocare uno, due, tre super strike-a-s giornata di partita allo strike-a-land il Colossus è determinato ad aggiudicarsi in qualche punto in classifica ma dovrà impegnarsi parecchio per battere i super strike-a-s in casa Dancing Rasta intercetta la palla si guarda attorno Twisting Tiger? è sempre un'ottima opzione vediamo se riuscite a fermare questo non ho mai visto sottrarre la palla a Twisting Tiger così facilmente forza Tiger, facci vedere che sai fare Twisting Tiger oggi sembra spaesato in campo i giocatori del Colossus riescono a bloccare ogni sua mossa grande Bo bella azione da parte dei rossi Twisting Tiger potrebbe girare la partita a favore dei super strikers è sempre pieno di sorprese che azione di Twisting Tiger ma non è sufficiente per avere il controllo assoluto forse comincia a sentire la pressione di dover affrontare la sua vecchia squadra ma ora c'è un'intera partita da giocare deve assolutamente capire come aggirare questa difesa il tempo è quasi scaduto forza infilate il pallone in quella rete al più presto Rasta passa a Twisting Tiger avrà qualche altra mossa in servo per superare la difesa? adattati Tiger fa qualcosa che non si aspettano Twisting Tiger buca letteralmente la difesa Shakes intercetta e... buongiorno bellissimo gol di Shakes sul fischio dell'arbitro i super strikers vincono nooo eh? ehi Twisting Tiger non devi preoccuparti sembrava quasi che conoscessero le mie mosse andiamo è solo una tua impressione dai ehi quando incontri Oragiri ringrazialo per il video dei tuoi allenamenti che ci ha dato cosa? non che ci sia servito a molto ecco come ha fatto il Colossus a studiare le tue azioni il DVD degli allenamenti ma io non ho mai visto quel DVD eh? Oragiri eh... tutto bene? no Oragiri è il mio ex allenatore solo lui poteva farmi questo ma... perché? crede che sia disonorevole per un giocatore lasciare la Nakama questa è la sua vendetta quindi... cosa ci succederà quando giocheremo contro di loro? ancora non lo so ma niente di buono beh... se vuoi allenarti a delle tecniche nuove io sono pronto ad aiutarti questo è il motivo per cui è bello giocare nei super strikers ti ringrazio, sei un amico figurati e infine la vittoria dei super strikers contro il Colossus a esclusione degli ultimi minuti Twisting Tiger ha giocato una pessima partita fase 1 completata ora è il momento della fase 2 onore e fiducia onore e fiducia noi siamo stati traditi da un nostro ex compagno oiao Mico, mi dispiace tanto ma le mie fonti mi informano che il nostro vecchio collega Twisting Tiger ha raccontato ai super strikers del tuo malaugurato infortunio Twisting Tiger non mi tradirebbe mai, mi creda ha tradito tutti noi ma maestro lui è come un fratello per me si ma fin dove è disposto ad arrivare un uomo pur di vincere ora che la Nakama ha fatto un DVD con le tue tecniche ci puoi rivelare i loro segreti, no? no i giocatori della Nakama sono bravi ragazzi non li tradirò solo perché ora Giri ha fatto quel DVD la Nakama arriverà qui in città questa sera domani mattina dobbiamo essere alla loro conferenza stampa poi nel pomeriggio giocheremo Shakes? si? puoi fermarti con me più tardi? assolutamente si sei il Colossus e è riuscito a mettermi sotto pressione la Nakama conoscerà sicuramente tutte le tue tecniche ho visto un programma sul canale Wild Life parlava di come le tigri cacciano le loro prede potrebbe funzionare la tigre accerchia la preda la intrappola e poi la attacca adesso mi sento davvero una tigre grazie per il tuo aiuto Tiger? eh? ti chiamano Twisting perché ballavi in campo? appena sono entrato nella Nakama giocammo contro il Colossus mi misi a correre per intercettare un cross pericoloso sia io che il mio compagno amico finimmo a terra entrambi infortunati lui si fece male a un piede io al braccio diventammo come fratelli per molto tempo fui costretto a fasciarmi il braccio durante le partite così iniziai a girare su me stesso per proteggere il braccio come se stessi ballando i difensori non riuscivano a starmi dietro e presto diventai un giocatore famoso per favore non dire a nessuno il motivo per cui indosso queste fasce ok? certo il tuo compagno di squadra è guarito? sì sta bene adesso sono contento e chi era? alleniamoci ancora ok? signore e signori benvenuti ho il piacere di presentarvi la squadra più disciplinata e aggiungo più talentuosa di tutta la Super League la Nakama FC non preoccupatevi ma certo stiamo calmi aspettavamo con ansia questa partita ci auguriamo che vinca la squadra migliore è bello ritrovarti amico mio anche se siamo avversari non vedo l'ora di condividere il campo con te ancora una volta Mico io io non capisco ricorda i miei giocatori non parlano con i traditori Tiger traditori? di che cosa sta parlando? tu hai rivelato ai Super Strikas i segreti più profondi della Nakama questo è imperdonabile Twisting Tiger non farebbe mai una cosa del genere io lo so e anche tu lo sai ma i giocatori della Nakama no e ora vogliono vendicarsi con lui oh no questo è un bel guaio devo assolutamente trovare quel DVD e provare che Twisting Tiger è innocente e che quell'ora Ghiri è un pazzo giusto? ahà Spenza P.I. è al tuo completo servizio da dove mi consigli di cominciare? puoi cominciare dai posti che frequentano i giocatori del Colossus giornata di partita allo Strikealand oggi assisteremo a una grande battaglia tra due pesi massimi della Super League prima durante la conferenza stampa si riusciva a percepire la tensione nell'aria credo fosse solo un po' di nervosismo niente di serio non ci scommetterei Mac i vecchi compagni di squadra non sembrano essere rimasti in buoni rapporti ora hai intenzione di costruirti una casetta qui allo Strikealand? e ora assistiamo alla parte amichevole dell'incontro in cui tradizionalmente i giocatori della Nakama si inchinano di fronte ai loro avversari beh Mac credo sia il caso di dire che questa si chiama tensione penso che per Twisting Tiger si prospettino tempi duri contro i suoi ex compagni di squadra che c'è? la Nakama fa pressing sui centrocampisti dei Super Strikas nonostante la tensione tra le due squadre la Nakama sta usando un ottimo fair play Miko Chen porta a spasso la difesa sì, è veloce come un fulmine uscita rischiosa da parte di Big Bo ma ostacola il suo avversario il tiro è alto la manda oltre la rete e il punteggio rimane fermo sullo 0-0 per il momento chissà dove è passato il Colossus quando è stato qui avranno pur mangiato Big Bo non perde tempo e rinvia la palla a centrocampo Nord Show temporeggia per far posizionare i compagni Twisting Tiger è libero faccia a faccia con i suoi ex compagni oh, c'è mancato poco i Super Strikas avanzano velocemente con la palla gran parata i Super Strikas hanno sprecato un'occasione per passare in vantaggio anche se li hanno fermati l'allenatore della Nakama non sembra molto contento devo trovare quel DVD prima che la Nakama metta in difficoltà Tiger ma certo un bravo detective ritorna sempre sulla scena del crimine lo Strikaland lo Strikaland devo andare lì è in fretta ok, ora posso andare in fretta la Nakama sta giocando come se fosse un passo indietro rispetto a Twisting Tiger Twisting Tiger che sta sfoggiando nuove tecniche per i suoi ex compagni di squadra fermatelo ehm? ahm? 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 e inevitabilmente finisce la sua corsa sull'erba sembra sconvolto, Mac non sono proprio sicuro che... che fosse una collisione accidentale? perché tratti così Twisting Tiger? era il tuo miglior amico o sbaglio? no, un vero amico non avrebbe raccontato i segreti della Nakama a voi Strikas è senza onore e non merita fiducia cosa? guarda che stai commettendo un grave errore sembra che la Nakama abbia cambiato atteggiamento si stanno decisamente accanendo contro Twisting Tiger sono d'accordo, Mac Miko Chen controlla la palla prepara l'azione tira in porta gol! che spettacolo! la Nakama segna per prima parte il cross di Cool Joe per Shakes la Nakama non rende le cose facili e rossi a centrocampo nessuno parte se è per questo ed ecco la Nakama di nuovo in attacco sono sotto di un punto i Superstrikas dovranno darsi molto da fare nel secondo tempo se Twisting Tiger non si decide a giocare meglio potrebbe essere sostituito lo stanno letteralmente distruggendo Miko la Nakama non sta giocando con onore non è più la squadra per cui giocavo io sicuro di riuscire a giocare? quell'ora Giri ha fatto il lavaggio del cervello ai suoi giocatori per me è un po' svitato e ha mandato tutti fuori di testa io sto bene coach purtroppo ti hanno preso di mira devi stare attento a non farti male se no rischi di saltare la prossima partita ce la posso fare sono pronto a vincere coach bingo Quanti sacrifici devo fare per il mio lavoro! Ah! Carissimi Colossus, qui c'è tutto quello di cui avete bisogno per conoscere la tecnica di Twisting Tiger! Saluti, ora giri! Sopastraia! Six! È il Matador! Spenza! È il Matador! Andiamo! Tu vieni con me! Bueno, la questione è sistemata. Sistemata! Esatto! Mettiamocela tutta! Possiamo ancora vincere! Sopastraikas! L'Anakama ha aperto lo schieramento! Puoi dirlo forte! È tornata la squadra che conoscevamo! Sembra che Miko Chen sia sinceramente preoccupato per il suo ex compagno! Va tutto bene, fratello? Sì, sto bene. Ma perché hai cambiato atteggiamento? Il mio cuore non è mai cambiato. È il Matador ha aiutato me e l'Anakama a far luce sull'accaduto. È il Matador! Non riesco a capire. Non so di che cosa stessero parlando laggiù, ma quanto pare le sorti di questa partita saranno decise dalla bravura e non dalle schermaglie. Wow! Che salvataggio di Big Bo! Che formidabile tiro di Miko Chen! Sono tornati a giocare un calcio spettacolare, Mac! Bancano solo 30 secondi alla fine della partita! Chissà se Tiger ha qualche sorpresa in serbo per i suoi ex compagni! Twisting Tiger non sta piroettando come suo solito! Sakuraba è intrappolato nel... Nell'occhio... Della figlia! Ah! Ah! GOL! Incredibile! I Superstrike spareggiano! A soli pochi secondi dalla fine! Wow! Che bel modo di finire una partita! Uuuh! Ah! E che partita emozionante! L'incontro è ufficialmente finito in pareggio, ma per me è come se entrambe le squadre avessero vinto! Mi dispiace di aver dubitato di te. Ora sappiamo che sei rimasto fedele alla tradizione della Nakama. Giocare nei Superstrikers non significa aver disonorato il passato. Per me è come un nuovo inizio. Minko Chen sta lontano da quel traditore che ha disonorato noi tutti! Non ha onore e non merita fiducia! Onore e fiducia? Lei non può più parlarmi di onore e fiducia! E non è che per caso ha intenzione di fare un DVD anche dei miei allenamenti in futuro, nel caso dovessi lasciare la Nakama? Oh, oh, quello! Quello era solo uno scherzo tra l'allenatore e un suo ex giocatore. Stavo solo cercando di... ...spingerlo a creare nuove tecniche! Sì, sì, nuove tecniche! Guardate! Cos'è quello? L'ho detto io che era svitato. Senti, Twisting Tiger, perché non ritorni a casa, nella Nakama? Questa è casa mia, ora. Questa è casa mia, ora.